Buonasera, Carminiello ma perché ti disperi? La Juve è qualificata in cemmio, conferenze lighe europa lì, l'anno prossimo giochi con il Pozzi Bonzi, la Pergolettese, l'Alessandria, mamma mia quanto ne ho sentito in questi mesi, anzi in questo anno, 10 punti di penalizzazione, sono pochi, devi ancora aspettare la manovra stipendi, tac, tac, patteggiamento, poi mi fanno ridere, serie B, serie B, tradizione, va bene, non ci penso, fammi un caffè, facciamoci un caffè e tra l'altro dopo questa grande notizia la Juve sta volando in borsa. Ragazzi io ho fatto un video breve giusto per prendervi per il culo, tarallucci a vino, raga io vi saluto perché sto andando a letto perché i tre, i tre suonano a svegli, alle quattro si inizia, un bacione a tutti i delusi, ciao mi raccomando eh, mi raccomando, mi raccomando stasera sparatevi le pugnette, non è che questo fatto raglio per non salire più, ciao belli, ciao ciao.